Ciao, sono Massimiliano Gatto, commercialista e socio dello studio BPV Commercialisti Associati. La mia attività professionale consiste nel dare consulenza fiscale e societaria alle aziende veneti. Mi sono avvicinato a Smallpay perché, avendo tendenzialmente clienti piccoli, mi semplifica l'incasso delle prestazioni ricorrenti, essendo molto semplice la modalità di pagamento, anche da parte della clientela, ottenendo una continuità nei pagamenti stessi. La rateizzazione permette ai clienti di pagare il mio compenso annuale in rate mensili, che altrimenti, in un'unica soluzione, rappresenta un esborso finanziario importante per le aziende. Il cliente ci chiede se la sua carta di credito finisca in qualche circuito finanziario. Ciò non avviene. Noi diamo al cliente, una volta effettuata la transazione, un foglio in PDF, dove ci sono i dati della transazione stessa e i dati, diciamo, vengono solo conservati presso lo studio. Certo, per quelli più grandi e strutturati, ho fatto presente che possono anche loro utilizzarlo. A mio avviso, questo sistema di pagamento dovrebbe essere usato da tutti i miei colleghi.